Allora, io teoricamente avrei una seconda domanda, però vedo che sono già le 10.40, quindi forse credo che vada un po' sintetizzato per lasciare magari lo spazio a domande. Io ho colto nei vari interventi un punto molto chiaro, che è la necessità di mettere in luce quelle contraddizioni che si cerca fortemente di nascondere. Vengono nascoste rispetto appunto alle esperienze nel sud del mondo, nascondendo anche nei media del nord del mondo, ma anche nascondendo gli effetti di quella sfera di riproduzione che è giusta, necessaria ed è fondamentale per un vero cambiamento che occupi tutte quelle piazze, occupi e prenda i riflettori della discussione in quanto spazio centrale che subisce poi quell'estrazione di profitto, che subisce gli effetti di un certo paradigma. Ma viene anche invisibilizzato appunto dal discorso generale di propaganda in cui costruire più opere significa progresso, da quell'idea di progresso che viene ormai da troppo tempo rilanciata e abbracciata come se vivessimo in un mondo con risorse infinite e la parola sviluppo fosse un dio da venerare in maniera acritica e totalmente ideologica. Detto questo, l'altro elemento è il tentativo di questo dibattito, è quello di costruire spazi di discussione e di continuare a portare avanti insieme un lavoro certosino, un lavoro che è un lavoro che è un lavoro di inchiesta, di analisi, di rapportarsi per riscoprire i nostri territori sia in un senso umano ma anche in un senso fisico e culturale, per riuscire a costruire non delle resistenze ma degli attacchi, cioè costruire insieme quell'assalto al cielo. Perché o siamo in grado di convincerci e convincere e come diceva Fischer, rendere probabile e possibile, far sembrare possibile l'impossibile. Noi dobbiamo rovesciare quel paradigma là e per farlo dobbiamo continuare a confrontarci, continuare a lavorare nei nostri territori e continuare a costruire forme di cospirazione assieme. Per questo credo che ci siano anche una serie di appuntamenti che sono importanti, che vanno attraversati. E quindi lascio insomma la parola a chi vuole mettere sul tavolo questi appuntamenti. Posso aggiungere un commento prima degli appuntamenti? Io credo che uno dei problemi che abbiamo in Italia, abbastanza specifici, è che ci manca un po' la cultura su certi temi. Cioè tu per attaccare un approccio o delle opere devi farti un'idea di cosa sia più sensato e cosa no, no? Ti dicono nucleare sì no, cioè è più facile, no? È più netto. Ma sulla gestione delle acque spesso, per la maggior parte dei cittadini, c'è molta complessità che va gestita e che è quella che cercano di annullare, no? Facciamo solo delle opere grossi perché è così tutto semplice, sì no? Invece spesso la risposta, come si dice ma questo va bene o non va bene? E la risposta spesso è dipende. E di gestire il dipende è molto più complicato. Perché devi capire, in quel contesto lì, questa cosa che vogliono fare è ragionevole o no? E per questo fare cultura diffusa, confrontarsi, cercare di capire meglio il proprio territorio, è alla base, no? Non puoi fare una battaglia se non sai in che direzione devi andare. Parlare del bellunese, no? Con Vaia è arrivato un miliardo di euro da spendere solo nel bacino del Piave per ricostruire. Ma non è che ci siano stati sollevamenti popolari, tutti vedevano le ruspe, dicono boh, faranno qualcosa, no? Ricostruiscono, ricostruiscono tutto come prima, anzi più grosso di prima, andrà bene. E non è banale far capire che magari sì lì, ok, ha senso, ma là no, è una cosa che anzi si crea più rischio di prima. Ma non è per niente facile, no? Non è che scagli contro qualsiasi cosa, qualsiasi ruspa che arriva. Devi capire. E la complessità è una cosa che però sembra che sulle acque non siamo ancora tanto in grado di gestire. Quindi questi appuntamenti sono molto importanti. Sì, appunto, rilancio, spendo solo due secondi per dire appunto che questo camp, che ribadisco si terrà dal 26 al 28 a Torino, al Parco Artigliela Montagna, appunto sarà un altro appuntamento per continuare questa discussione che ovviamente non può fermarsi qua, appunto oltre all'acqua, anzi sicuramente l'acqua sarà il tema centrale e un altro tavolo insomma molto importante sarà anche quello che verterà sul tema della cementificazione, anche lì perché sulla città di Torino sono nati tanti comitati locali spontanei per difendere i parchi, per difendere una cementificazione che alla fine con le risorse idriche ha tanto che vedere, l'abbiamo spiegato poco prima e appunto si terrà in questo parco che è un parco che stiamo difendendo da un supermercato dall'Esselunga che appunto con anche l'appoggio del comune vuole essere edificato proprio lì in uno dei punti verdi della città nonostante sia già appunto circondata da questo tipo di strutture quindi insomma sarà un altro appuntamento in cui avremo modo di approfondire la tematica dell'acqua, declinarla e capire anche come intervenire su tutte le lotte anche più spontanee che si stanno dando e subito dopo ci sarà dal 29 al 31 luglio Alta Felicità, il Festival Notav e anche qua continueremo comunque insomma a parlarci, ci saranno anche i compagni francesi con i quali anche grazie al tema dell'acqua che è stato uno dei temi su cui è stata declinata appunto la manifestazione del 17-18 giugno in Val Morienne siamo riusciti anche lì a fare un bel, insomma a stringere una bella alleanza quindi anche a riprova del fatto che effettivamente l'acqua è un canale oltre a essere un canale fisico è un canale sociale che dobbiamo stringere forte e tenerci stretto per appunto nuovi appuntamenti io ne cito due e poi insomma Venice Climate Camp ne sarà un altro E appunto come diceva Ludovica poi il Venice Climate Camp a inizio settembre sarà un altro momento di confronto e poi ovviamente ci saranno è importantissimo appunto fare inchiesta, informarsi specificatamente sui territori avendo conoscenza anche tecnica delle scelte che sono possibili, sensate o meno se ci sono domande io farò molta fatica a vedere se qualcuno ha le braccia alzate per cui in caso avvicinatevi oppure chiedo l'aiuto di altre persone che mi diano una mano mi sembra che non ci sono domande date mi conferma bene allora direi in francese in francese io ti dono il microfono io ho sento dire che ci si chiedere di comprendere le braccia alzate e i problemi che ci si chiedere in questo caso un po' un po' questo caso in cui ci si chiedere in questo caso e io penso che ci si chiedere in un gruppo di un po' questo dovrebbe andare per la traduzione ci si chiedere in un gruppo di movimenti come Notave come le soulèvement della terra bassino non merci e i movimenti autonomi in generale che ha detto di disegner delle cibili di disegner clairement delle responsabili e questo io penso che è un cambiamento d'epoca in cui l'on è io trovo importante di le rappele che la Farge Olsim che ha finanzato il terrorismo in Syri che è un'entreprise francese è responsabile della betonizzazione di noi per esempio per esempio pochi esempi allora dentro dentro appunto il quadro del fatto di avere un confronto e di trovare anche nuove pratiche un elemento che è anche di cambiamento epocale e soprattutto anche fondamentale è quello di indicare gli obiettivi e di praticare gli obiettivi quello che ha fatto il movimento Notave che ha fatto sulle vomande della terra con i bacini artificiali è esattamente quella cosa là che ha fatto anche con il cementificio la Farge che aveva finanziava l'Isis avendo una centrale in quel territorio là bene quello è una parte fondamentale poi del delle pratiche e della costruzione di un mondo diverso mi permetto di aggiungere che appunto dentro questi elementi qua anche il quadro il paradigma trovare indicare gli obiettivi non in un senso cieco ma cercare quei tratti di unione quella linea rossa in cui si materializza si concretizza in maniera plastica concretizzano quelle contraddizioni e dentro questo Truman Show di bugie e di costruzione che ci pervade quegli elementi quelle contraddizioni che poi possono diventare cioè è compito nostro far diventare paradigma sono necessarie è necessario indicarle perché servono poi a rompere quella quella dimensione pervasiva in cui viviamo e in cui non è possibile dentro cui non è possibile pensare un adattamento alla crisi climatica perché quell'adattamento è sempre un adattamento neoliberale dentro quelle regole là invece l'adattamento siamo noi nel nostro costruire conoscenza e nel nostro lottare contro quel paradigma quindi poi anche dentro questo quadro io credo che anche quello che diceva la Anna rispetto alle Olimpiadi qualifichi anche le Olimpiadi come grande evento e come paradigma di un certo un tipo di estrazione che è multisfacettata e multilivello io credo che sia arrivato il momento di arrivare alle conclusioni alla chiusura e vi ringrazio enormemente per essere stati qua stasera per i vostri interventi e per la vostra pazienza per la vostra attenzione ci troviamo nei prossimi appuntamenti e nelle prossime lotte la lotta è per la vita grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti